Sì, ex Lovara, Marta, un tempo fa, ma più che altro, la mattina, la sera ci avete sentito sognare, una gran partita, una gran pallavoro, non avete sbagliato con quasi niente, avevate detto l'altro confine per soffrire un set ogni tanto, come diceva Pagari Anzio, quelle sofferenze sono state dettate più da un callo di testa, da una stanchezza, di tanto lavoro, giocata, e questa è davvero Scamolini, se questa ci accontenti, andiamo a fare un gran Capodanno. Sicuramente questa, nel senso noi, almeno la partita di oggi è andata proprio via liscia come l'olio, eravamo molto tranquille. Anche cariche? Sì, anche cariche, molto decisive, è anche stata per la prima parte del set una partita molto equilibrata, perché comunque andavamo avanti due punti noi e loro tornavano sotto. Comunque sì, siamo sempre state lì con la testa, magari nei momenti più importanti, più decisive, più grintoso, e nella parte finale del set siamo sempre andate in vantaggio, quindi poi abbiamo chiuso in maniera tranquilla il set. Non facciamo promossosi che portano sempre male, facciamo gli auguri tipo Nando a chi ci sta video ascoltando sui solo voli e sul sito dell'Europa. Auguri a tutti i tifoni!